Settimana intensa per lo Scalea che in otto giorni sarà in campo tre volte. Dopo le due sconfitte a Praia e a Trebisacce serve ritrovare subito la strada della vittoria per restare attaccati al treno di testa. La partita non giocata contro la Mantea il 4 novembre scorso ha creato più problemi di quanto ci si potesse attendere. La sfida contro i blucerchiati arrivava infatti dopo la sconfitta nel derby e sarebbe stato il modo migliore per cancellare la battuta d'arresto, magari con una vittoria in casa e risollevare subito il morale. Invece così non è stato e dopo la rimpatriata tra tifosi e il rinvio della gara a mercoledì prossimo gli uomini di Possidente sono stati sconfitti in un'altra trasferta domenica scorsa in quelli trebisacce. Non è forse ancora il caso di parlare di momento no ma la sfida di domenica contro il San Marco che viaggia a braccetto con i biancostellati a quota 18 diventa uno snodo importantissimo per pesare le ambizioni della formazione tirrenica. Senza Petrillo squalificato Possidente dovrà dosare le forze in vista del recupero di mercoledì sempre in casa contro l'Avantea e della trasferta di Cuto di domenica 25 novembre. Un bel tour de force da gestire senza paura e da affrontare con serenità partita dopo partita. Il campionato è ancora lungo anche se il Corigliano dopo la sconfitta all'esordio proprio a Scalea non ha perso un colpo vincendo otto partite e pareggiando soltanto sul campo della promosport.